Ciao, qui Francesco Bellomo, il fondatore del programma Scommessa Intelligente, il primo programma rivoluzionario al mondo che dà la possibilità a qualunque individuo abbia compiuto 18 anni di potersi creare delle entrate e dei guadagni ricorrenti imparando a trasformare i numeri in profitto attraverso la formula Scommessa Intelligente. Ed in questo video voglio analizzare insieme a te in modo intelligente la squadra del Liverpool sotto un punto di vista bettistico, dunque sotto un punto di vista di investimento nelle scommesse e voglio dimostrarti in realtà come cambia totalmente l'opinione da dei dati di fatto e soprattutto quanto è facile in realtà attraverso i giusti mezzi crearti delle entrate e trasformare i numeri in profitto. Bene, se non mi conosci il mio nome è Francesco Bellomo e sono un riprogrammatore mentale, emotivo e comportamentale, uno di coloro i quali in realtà non fa altro che prendere una persona, trasformarla a livello mentale, emotivo e comportamentale e portarla al successo, portare ad aggiungere qualsiasi obiettivo la persona si pone. Proprio per questo oggi aiuto tantissimi individui e tantissime aziende anche a poter arrivare al successo, ma oltre a questo per tua fortuna sono anche un grandissimo scommettitore, scommettitore come dicono i miei amici e soprattutto anche un grandissimo sports trader intelligente, dunque uno scommettitore e uno sports trader intelligente, colui il quale trasforma in semplici step grazie alla formula scommessa intelligente i numeri in profitto. Bene, ti consiglio vivamente di andare su scommessointelligente.com se non l'avessi ancora fatto e di rivoluzionarti immediatamente perché ho messo a tua disposizione tre video coaching di immenso valore, di altissimo livello che se li segui in un modo molto ma molto importante, credimi, la tua predisposizione mentale e la tua mentalità al riguardo viene completamente stravolta. Bene, in questo video quello che conta è che voglio mostrarti in realtà come analizzare il database, uno dei pilastri della scommessa intelligente e soprattutto come è possibile cogliere l'opportunità e creati dei guadagni capendo dove poter andare a scommettere a favore di una squadra. Oggi analizzeremo insieme la squadra del Liverpool. Dunque, andiamo nel nostro database, lo interroghiamo, ma prima di interrogarlo voglio educarti a questo database. Dunque, innanzitutto, cos'è un database? Un database è un insieme di dati che vengono registrati. Un database può essere anche, che ne so, la collezione di fumetti che è a casa, magari hai fatto un keep record di fumetti, più fumetti inserisci nel tuo keep record, più crei, cioè stai creando un database, no? Più dati inserisci, più il database prende forma. Dunque, alla fine questo è un concetto molto, molto importante. Dunque, necessiti di un database, necessiti di un qualcosa per poter arrivare a guadagnare dei soldi in un modo importante, necessiti di dei dati. Poi può darsi anche che non necessiti un database, perché magari ti affidi a qualcuno che in un modo valido ti dice ciò che devi fare e lo fai. Però, in linea generale, per arrivare ad ottenere dei grandi risultati, questo è uno step che fa parte della formula scommessa intelligente. Ho lavorato tanti anni, sono stato il primo a introdurre, non solo a livello italiano, ma a livello mondiale, la formazione sotto il piano bettistico, dunque sotto il piano delle scommesse, proprio perché in realtà è un mondo come tutti gli altri, è un mondo affascinante, è un mondo che in realtà ha cambiato e ha stravolto la mia vita in meglio. Alla fine la mia missione è quella di darti la possibilità anche a te di poter in realtà una volta che superi quelle barriere mentali che molto probabilmente anche in questo momento stanno rendendo un po' ostile il mio comportamento e le mie parole nei tuoi confronti, una volta che le superi, credimi, alla fine ti si apre completamente un mondo nuovo. Un mondo nuovo definitiva cos'è? Quando credi a un qualcosa, magari in questo momento credi che non si può guadagnare, che è impossibile guadagnare, che si perdono soldi, perché maturabilmente sono state le tue esperienze passate, perché ti hanno programmato a questo. Nel primo video di scommesse intelligente ti dico tutto questo in un modo molto ma molto importante e te lo mostro anche come avviene tutto questo. Uno degli step più importanti è quello che in realtà se impari a lavorare in un modo importante, in un modo straordinario, ovviamente non ti è facile all'inizio, perché comunque la tua vecchia programmazione, le tue credenze che per tanti anni ti hanno portato ai risultati, pensa un po' quando si scontrano con una realtà come questa che ti sto mostrando in questo momento, che ti mostro in altri miei video o in qualche mio seminario, in qualche mio programma di coaching o dappertutto. Bene, ti mostra esattamente il contrario con dei dati di fatto, ovviamente tu internamente vai in un conflitto, cioè succede una guerra, una guerra mondiale interna, ok? E questo ovviamente ti porta la maggior parte delle volte a chiuderti, a rinnegare la realtà pur di giustificare internamente delle tue credenze. Non è il modo corretto per cambiare la vita, non è il modo corretto per crescere. Dunque, il primo step apriti mentalmente, goditi in questa trasformazione e inizi a fare tutto questo se proprio devi farlo in modo intelligente. Bene, questo database in realtà è un database costruito dal 2012-2013 alla stagione che si è appena conclusa pochi mesi fa, la 16-17, tra un po' inizio un'altra tre parti che sarà un'annata straordinaria. E uno step fondamentale qual è? Che la prima parte del database è questa ed è una parte prettamente informativa. Dunque, qui c'è la stagione, viene elencata la stagione battistica, calcistica, qui ci sono le ligue, i campionati, dunque alla fine la Bundesliga, la Premier League, la Premier Division e la Serie A. Perché quattro? Perché quattro l'ho scelto io in realtà e il mio database ho voluto che il mio team e i membri del mio team creassero questo database con questa modalità. Ovviamente ho anche altre database a disposizione, questo database è costruito su quattro campionati. Qui c'è la data di quando questo evento si è giocato, l'ho ora, chi giocava in casa e chi giocava in trasferta. Dunque questa è la prima parte informativa. Poi c'è una seconda parte che è quella numerica, dove in realtà abbiamo le quote del nostro bookmaker di fiducia, le quote del nostro bookmaker che prendiamo a riferimento. È fondamentale prendere le quote stesso giorno, stessa ora, ovviamente nei giorni, in base a quando ci sono posticipi, anticipi o si giocano le gare. Ci sono degli orari che non è una regola fissa, io ho degli orari che predivido e te li dico anche attraverso la video coaching di serie gratuita e vado in un modo più approfondito nella spiegazione del mio programma scommesso intelligente. Però in realtà la cosa importante, per fartela breve, prendi le quote stesso giorno, stessa ora o stessi giorni, stesse ore, non solo un giorno ma prenderlo per tutto l'arco della tua vita, fino a quando morte non vi separi alla fine, fin quando credi fortemente in quello che stai facendo, costruisci un database prendendo un bookmaker di riferimento, un modello statistico, puoi prendere anche più bookmaker a riferimento, in realtà è un lavoro molto più complesso, molto più complicato. Per farla semplice, sposa un bookmaker e da quel bookmaker registra le quote stesso giorno, stessa ora, stessi giorni, stesse ore in un modo persistente, ok? Questo significa disciplina. E poi questa è una parte importante perché in realtà ci dà le quote e poi abbiamo quest'altra parte che è la chiave, la chiave se vuoi in realtà crearti delle intersezioni, dunque le intersezioni sono i mezzi, i mezzi che ti permettono di crearti le tue entrate, i tuoi guadagni. E poi abbiamo, questa parte la cosa è data, il valore in realtà cos'è? È la differenza tra la percentuale che viene fuori da questa quota, 100 diviso 1,43 mi dà una percentuale, da questa percentuale sottraggo la percentuale della mia quota, la quota che io mi calcolo, sì sì, mi calcolo io le mie quote e te le insegno nel processo del secondo video gratuito della videoserie di coaching su scommesseintelligente.com. Vai immediatamente dopo che finisci di vedere questo video. Dunque ho i miei valori, questi valori poi in realtà sono una bassa straordinaria perché mi posso sbizzarrire su questi valori e posso creare in realtà il mio impero. Poi c'è qui un'altra parte che è quella dei risultati e se in realtà c'era una neopromossa o meno tra queste due squadre che si affrontavano in casa o fuori casa, ok? Dunque risultati come risultato esatto e come esito finale dell'incontro. E poi abbiamo in realtà la parte straordinaria, che è questa, che è il simulatore di esito. Dunque alla fine il simulatore dei risultati. Qui vedi che in realtà ci sono le colonne riguardanti il back, dunque la punta, per rendertelo più semplice questo video per non ingarbugliarti ho messo solo la possibilità di puntata, in realtà c'è anche la bancata. Però questo che ti sto mostrando è sulla puntata, è uno step fondamentale qual è? Il ROI sarebbe il ritorno sull'investimento, non so se hai sentito parlare sul ROI ma in realtà è molto semplice, cioè in base a quello che investi, il volume di capitale che investi vedi in realtà quanto ti ritorna. Se investi 100 euro e ne prendi 20, c'hai un 20% di ROI, se ne investi 1000 e prendi 20 euro, c'hai un 2% di ROI, ok? Dunque in realtà questi risultati, questi point divisi la responsabilità, prendendo questo, diviso questo, ho la possibilità di capire il mio ROI, ok? Ovviamente poi questo simulatore cosa fa? Bene, simula una bettata su ogni esito di tutte le 7229 partite presenti in questa database, sotto ogni esito, dunque su ogni esito, sull'1, sull'x e sul 2, ok? E qui mi porta il subtotale dei risultati. Quando si perde ovviamente sull'esito, perdo un point, perché sto simulando la bettata con un point per approcciare in un modo professionale a quello che faccio, poi il point in realtà lo quantifico a livello monetario in base al mio stake, al mio bankroll, e poi una cosa importante è che le vincite sono già detratte del 5%, dal 5% di commissione che in questo caso Betfair detiene, ok? Poi se tu crei il tuo simulatore di risultati su un altro bookmaker che non ti tassa sulla vincita, ma la vincita è già tassata, alla fine, dunque alla fine hai la vincita pulita, ben venga, alla fine inserisci il numero corretto, che io qui inserisco il guadagno dedotto già del 5% di commissione. Bene, detto questo velocemente cosa puoi notare? che negli ultimi 5 anni, bettando su ogni esito, per assurdo, nessuno degli esiti avrebbe portato profitto. Questo è per farti capire come il lavoro del bookmaker, le quote che il bookmaker offre, in questo caso Betfair, ma in realtà nel senso che tutti i bookmaker su per giù offrono quote simili, e alla fine i risultati, se li vai a vedere anche da tutti gli altri bookmaker, sono molto probabilmente anche peggiori rispetto a questi. Dunque alla fine avremmo soltanto ottenuto dei loss, qui otteniamo un loss inferiore perché? Perché il fattore casa nel calcio è sempre importante, è un fattore fondamentale, molto molto importante. Dunque di solito le squadre perdono meno in casa, ok? Dunque alla fine, infatti se tu vedi gli 1 in realtà ci sono 3339,1, 2129x e 1762x e 2129,2. Dunque questo è per farti capire che il fattore casa, le squadre vincono sempre più in casa, no? Il fattore casa è fondamentale. Bene, il database perché è importante costruirtelo? Perché una volta che te lo crei ed è affidabile, dunque te lo crei con dei parametri importanti, lo puoi interrogare, ci aggiungi qui dei filtri e poi lo puoi interrogare. Oggi interrogheremo il database su una squadra che è veramente sopravvalutata in un modo pazzesco, è il Liverpool in Inghilterra, è una delle mie preferite nel momento in cui faccio degli antepostbet a inizio campionato. Quest'anno molto probabilmente le farò e molto probabilmente le mostrerò anche a livello pubblico, sul mio profilo Facebook, Twitter, Instagram o anche su YouTube, dappertutto. Dunque preparati perché ti mostrerò le mie anteposte. Il Liverpool sarà una delle squadre che prenderò in considerazione, è sempre sopravvalutata, credimi, è qualcosa di incredibile. Infatti se tu vedi, prendendo in considerazione il Liverpool, vedi il bookmaker come è bravo apprezzarlo, è bravo apprezzare il Liverpool in ogni evento perché il Liverpool è parte di una cultura, no? Dunque alla fine tantissima gente, indipendentemente se sa se una quota può essere idonea ad investirci dei soldi o meno, ci betta sopra. La cosa straordinaria è che in realtà nel tempo, se tu avessi bettato su tutti gli eventi, quando il Liverpool avesse giocato in casa, su tutti gli uno, avremmo portato a casa un meno 7,80 point di profitto su 95 bettati. Dunque il profitto, solo e discursivamente analizzando adesso la squadra così sulle quote, sarebbe è stato esattamente nella parte opposta, dunque sulla X, puntando la X e puntando tutti i due. Dunque una cosa molto molto importante che voglio in realtà capire e adesso voglio farti vedere una cosa fondamentale. Questo a cosa serve? Serve per capire in realtà come approcciare a questa squadra. Poi qui posso interrogare il bookmaker, gli posso dire ma tutte le volte che in realtà questa squadra giocava in casa con una quota minore o uguale a 2. Cosa succede? Bene, come vedi diminuisce la perdita del Liverpool ma aumenta in realtà il profitto della squadra che gioca fuori casa. Poi posso mettere magari 1,70 e vedo quello che succede. Aumenta il Liverpool, aumenta il loss del Liverpool e aumenta anche il profitto della squadra che gioca fuori casa. Dunque alla fine uno degli step importanti, giocando in questo modo interrogando il bookmaker, ho la possibilità di farmi un'idea. L'idea qual è? Che il Liverpool quando è favorito o iperfavorito tendenzialmente in casa non ottiene dei risultati importanti. Dunque alla fine in modo intelligente interrogo il bookmaker sotto un punto di vista di quota. Dunque adesso gli dico bene, allora facciamo una cosa. Prendimi in considerazione tutte le gare quando il Liverpool in casa giocava con una quota pari o inferiore a 1,50. Dunque c'ho una quota di 1,50 o inferiore. Mettiamo 1,70. 1,70 i poteri come l'abbiamo messo prima. Abbiamo in realtà dei point in più. E adesso gli dico al simulatore una cosa fondamentale. Dunque in questa prima parte stiamo lavorando solo su delle quote. Già abbiamo una grossa idea. Dunque abbiamo la possibilità di lavorare e capire in realtà la squadra in un modo profondo sotto un punto di vista statistico, reale, non sotto un punto di vista di opinione o di sensazione. E una step fondamentale che adesso facciamo inseriamo la chiave. Dunque nel nostro database inseriamo la chiave per tirarci fuori un qualcosa di valido. In questo caso ti sto mostrando una mia intersezione. Dunque alla fine ti dico bene, adesso voglio prendere in considerazione tutti gli eventi quando la squadra che giocava fuori casa aveva un valore maggiore o superiore al 5%. E qui in realtà cosa fa? Mi mette un po' di meno point, 17 point, ma mi rende in realtà il tutto molto ma molto più affidabile. Se qui adesso metto una quota sotto l'1,5 o pari all'1,5 vedi che succede? Che in realtà aumento il mio profitto e aumento anche il mio ROI. Dunque nei 5 anni a queste condizioni, grazie a che cosa? Grazie alle quote prese sempre dal bookmaker stesso giorno, stessa ora in tutti questi anni, grazie al calcolo statistico comparato tra la quota del bookmaker e la mia quota, grazie al lavoro che svolgo sul valore per trovarmi la mia intersezione, bene, ho la possibilità di guadagnare il 66,8% nei 5 anni andando esattamente contro il Liverpool. Come vedi, andando contro, ed è una delle strategie che io prediligo nel bettare, non è molto semplice perché in realtà devi superare delle lunghe lose in grano, però quando prendi i colpi, prendi in realtà le balene, no? Vedi 8 point, 10 point e 45, certo non capiranno tutti i giorni, dunque devi avere una mentalità abbastanza forte, però in realtà lo puoi fare in un modo molto importante questo discorso, ok? Questa è una cosa fondamentale. E poi uno step che puoi portare ancora avanti è quello che, un paragone, no? Vedi, lavorando e bettando sul Liverpool in casa, ovviamente avresti perso 2 point e 27 in 5 anni, facendo esattamente le stesse bettate, 38 bettate. Qui in realtà su 38 bettate, sull'esito 2, avresti ottenuto in realtà solo ed esclusivamente 6 vittorie, dunque avresti vinto 6 volte. Sull'esito 1 avresti vinto 27 volte, però questa è una chiara dimostrazione che non è importante quante volte vinci, ma è importante a che condizione vinci, perché qui vinci molte più volte puntando sul Liverpool, però alla fine non guadagni, qui vinci meno volte, ma alla fine porti a casa soldi. La differenza che c'è tra il bettare sul Liverpool e il perdere soldi e il bettarli contro, le differenze sono due. La prima differenza è prettamente di tecnica, perché in realtà devi avere una strategia che se non è supportata da dei modelli statistici, addios amico, se nel tempo non vai da nessuna parte. Secondo, devi essere riprogrammato mentalmente ed emotivamente, perché non è facile subire delle losing run del genere. Questi losing run, una mentalità da giocatore non le riuscirà mai a sopportare, una mentalità da investitore riuscirà a sopportarle alla grandissima. Dunque alla fine devi cambiare la tua mentalità, devi passare dalla mentalità di giocatore a una mentalità da investitore, lì vedi che c'è il profitto. In questo video ti ho mostrato in realtà come si trasformano i numeri in profitto grazie al processo scommesso intelligente, ma non solo. Spiegandoti e mostrandoti in realtà come grazie a dei database, a dei dati, l'opinione va a farsi benedire e lavori in realtà su dei dati che ti permettono in realtà di lavorare su più angoli, da diversi punti di vista, per arrivare a crearti poi le tue strategie. Se queste strategie saranno affidabili o meno, dipenderà molto dal bookmaker che tu avrai come riferimento, dunque dal modello statistico al quale farai riferimento e dal modello statistico che tu deciderai di comparare per tirarti fuori dei tuoi valori. Il valore in realtà lo capisci e lo recepisci nel momento in cui lo vai a creare. Un valore si crea quando metti a confronto un qualcosa. Non puoi sapere se la BMW vale di più di una Ferrari se non la metti a confronto. La BMW ha un suo valore, però non ne sai mai il valore o il valore reale o ipotetico qual è nel momento in cui non metti a confronto con un qualche altra cosa. Dunque questo è uno step molto ma molto importante e fondamentale. Ultima chicca che ti do. Da questa intersezione, se betto solo ed esclusivamente contro il Liverpool quando la squadra che gioca fuori casa non è una neopromossa, cosa succede? Bam! Il mio guadagno sale al 134,7% e alla fine i miei point sono saliti al 3,36,38% come numero. Dunque alla fine mettiamo per assurdo che nei cinque anni avessi bettato 100 euro avresti ottenuto in realtà, se avresti investito nella totalità in 27 bettate 100.000 euro avresti ottenuto 134.700 di profitto. Se ne avessi investiti nella totalità 1000 ne avresti guadagnati 1347 e così via. Questo grazie a cosa? Grazie alla formula scommessa intelligente, scommettendo in modo intelligente. Quello che ho voluto mostrarti in questo video è molto semplice. Ti ho voluto dare la possibilità, uno, di educarti ad un database, istruirti e formarti a quello che è una grandissima opportunità oggi. Quella che puoi crearti, credimi, te lo sto dimostrando e te l'ho dimostrato. Puoi crearti uno o più guadagni ricorrenti imparando a fare le cose in un determinato modo. Oggi la distanza che c'è in realtà tra te e il tuo obiettivo è la conoscenza e quella conoscenza deve essere naturalizzata. Perché? Perché la tua conoscenza se non è naturalizzata dentro di te, in realtà, se quella conoscenza non ti riprogramma internamente, non ti permetterà di agire sulla stessa per ottenere dei risultati che quella conoscenza in realtà ti porta. Ok? Che dirti? Tre semplici consigli che ti do tendenzialmente in ogni video dove analizzo queste squadre, analizziamo queste squadre insieme. Il primo consiglio, lascia stare le opinioni, le sensazioni, le multiple, i raddoppi, gli scoppi e tutto il resto. Affidati ad un qualcosa di sano, di veritiero. Dunque affidati a dei database, affidati a dei dati, non seguire più numeri giusto per seguirli. La multiple nel lungo termine non ti porta a nessuna parte. Farò qualche video dove ti mostro in realtà come il bookmaker guadagna ad ogni tua selezione. Dunque ne betti una, non sai dove devi bettare, bene. Ne betti due, bene. Ne betti tre, moltiplichi sempre di più l'agio del bookmaker. Dunque alla fine lo fai felicissimo nel tempo. Ok? Dunque non so se qualcuno ti dice queste cose, molto probabilmente no, perché tanti parlano ma pochi fanno e di conseguenza non sanno dirti in realtà ciò che fanno, perché in realtà è il contrario di quello che vorrebbero fare. Io posso farlo, sono un'autorità in materia, ti consiglio di scrivermi tutto ciò che vuoi, sono qui pronto ad aiutarti. Molto probabilmente in questo momento dentro di te, non so, magari forse sono meno ostile dell'inizio, no? Magari stiamo diventando amici. Beh, credo di sì e mi auguro di sì. Se ancora hai quei conflitti interni, bene. Ti consiglio vivamente di iniziare la guerra in un modo importante andando su scommessiintelligente.com. Vediti quei video e vedi come tutto ciò che credi in realtà era solo ed esclusivamente una pura illusione, perché attraverso quei video come ho fatto oggi in questo mini video, ti mostro e ti spiego in realtà tutto ciò che devi fare per cambiare completamente la tua vita. La puoi fare lavorando la casa, lo puoi fare lavorando da casa, dove vuoi. Puoi avere solo una connessione internet, un file Excel, un software che ti legge Excel, un database e la formula scommessa intelligente. Se ti associ al programma e diventi membro del programma scommessa intelligente, il database e la formula te la diamo noi. Tu devi avere soltanto il software di Excel e devi avere una connessione internet. Il bankroll? Bene, qual è l'ultimo problema. Mi auguro che tu lo possa avere, ma se non ce l'hai, ti mostro in scommessa intelligente come racimularlo grazie agli altri. Perché quando hai una strategia, i soldi da una parte e dall'altra, li trovi. Qui è Francesco Bellomos, scommessintelligente.com. Scappa immediatamente, vai e rivoluzionati. Fai parte anche tu di questo grande movimento. Ci vediamo in qualche altro video. Ciao!